A Molinella, a 300 metri dal ponte di Santa Maria e Codisciume, trovi, immerso nel verde, l'Alberto Ristorante, Al Cavaliere. Al Cavaliere, è famoso per la pizza fatta veramente alla napoletana, e cotta nel forno a legna. Il luogo ideale per passare una piacevole serata con gli amici. La grande sala, permette infatti, di ospitare numerose commetive. Il menù, comprende primi e secondi piatti di carne, e di pesce. Per accontentare tutti i gusti. Al Cavaliere, offre anche un servizio di pizzeria d'asporto. La cottura della pizza nel forno a legna, asciuga l'impasto e consente di ottenere una pizza leggera, magra, altamente digeribile e soprattutto, molto più buona. L'albergo, ha 5 comode camere da letto, arredate in stile arte povera, eleganti ed accoglienti, anche con la vasca di promossaggio. L'albergo, ha 5 comode camere da letto, arredate in stile arte povera, eleganti ed accoglienti, anche con la vasca di pizzeria d'acoglienti, anche con la vasca di pizzeria d'acoglienti, anche con la vasca di pizzeria d'acoglienti. L'albergo, ha 5 comode camere da letto.